Allora prego i consiglieri di prendere posto e apriamo i lavori di questa seduta e purtroppo ancora una volta siamo costretti a ricordare, non è la prima volta, e a chiedere all'Aula di commemorare le vittime di questa immane tragedia che ha colpito la città di Manchester e provocando la morte di 22 ragazzi con numerosi feriti. Il cordoglio naturalmente alle famiglie delle vittime ma davvero il dispiacere, l'amarezza e la tristezza che siano stati ammazzati tante vite giovani che sono certamente il futuro del nostro Paese e quindi un attacco al futuro. Io per questo vi chiedo un minuto di raccoglimento anche se è una seduta di question time ma credo che sia doveroso e necessario da parte dell'istituzione. Grazie a tutti. Grazie. Ricordo che ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno il consigliere proponente ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante dell'aggiunta per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di due minuti. Ricordo inoltre che le interrogazioni all'ordine del giorno dell'odiena seduta di question time sono state elencate nell'ordine di presentazione. Quindi passiamo alla prima interrogazione. Oggetto scuole sicure, riconoscimento situazioni di emergenza negli istituti scolastici secondari della provincia di Caserta e timori per il proseguimento dell'attività scolastica per l'anno in corso 2016-2017. Risponde l'assessore all'istruzione Portini. L'interrogazione a firma del consigliere Zinzi. E quindi, muovi leggo, comunico che il consigliere Giampiero Zinzi in dato dirna con nota numero 578 ha comunicato a questa presidenza il ritiro dell'interrogazione a sua firma. Avendo ad oggetto scuole sicure, registro generale iscritto all'ordine del giorno. Quindi mi leggo, prendo nota che c'è un ritiro dell'interrogazione. Quindi passiamo alla seconda interrogazione. Registro generale numero 61-2. Avendo ad oggetto lavori finalizzati alla riapertura dell'impianto sportivo polifunzionale Collana, a firma della consigliere Maria Muscarà. Quindi la parola alla consigliere Muscarà che ha la facoltà di illustrarla per un minuto. Prego, consigliere. Allora, grazie della parola. Questa è la terza interrogazione che facciamo. Il tema è sempre lo stesso, lo stadio Collana. Lo stadio Collana è l'unico impianto sportivo pubblico di un quartiere, il quartiere Vomero-Arenella, che conta quasi 120.000 abitanti, diciamo per capire insomma grande quanto Salerno. Questo per comprendere meglio quali sono le necessità da soddisfare, non in rapporto al territorio di appartenenza, ma al numero di abitanti e alla qualità della vita degli abitanti che quel territorio la vive. La ristrutturazione di questo impianto risale agli anni 70. Da allora in poi è stato lasciato in abbandono. Si è sempre sopravvissuti, tanto che il campo di atletica leggera, che serviva per le gare di atletica leggera, adesso è stato ribassato a campo di corsa campestre. In questa struttura vi si allenano 6.000 atleti, che appartengono a oltre 40 associazioni, o federazioni, oppure enti di promozione sportiva. L'attività è ferma da più di 100 giorni, con grave documento, in modo particolare per quelle attività agonistiche che ferme per tre mesi hanno visto completamente bloccata la loro possibilità. Si allenano a prezzi popolari le scuole, le società sportive, e molte scuole fanno attività sportiva non avendo le palestre. Anche d'estate diventa campo, campus per i bambini delle scuole che sono chiuse. L'impianto è di proprietà della regione. Una diatriba durata parecchi anni ha visto in lotta comune e regione per riappropriarsi di questo stadio. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che lo stadio è della regione Campania, il comune ha restituito le chiavi. Pare che la regione non sappia che farsene di questo impianto, che pur così duramente ha tentato di riconquistare, tanto da far quasi rimpiangere la così fumosa e così poco attenta gestione del comune di Napoli. Sono stati effettuati varie ordinanze, anche sopralluoghi dei vigili del fuoco. Non vi voglio perdere in notizie che comunque vi avevo già dato nell'interrogazione. L'ultima notizia che avemmo tramite il mattino dal presidente De Luca dichiarava che, e questo risale a marzo, che la settimana successiva sarebbero partiti i lavori dell'impianto da parte della società SMA. Nei fatti a marzo non è successo niente, la SMA non è entrata, nessun lavoro è stato fatto, l'impianto è stato chiuso. Chiediamo quindi al vicepresidente, visto che qualche giorno fa è stata commemorata con una manifestazione, i 100 giorni di chiusura, una specie di funerale delle speranze e delle promesse. Chiediamo, perché pare ieri, proprio ieri è uscito sul giornale una notizia, che i fondi saranno quelli delle universiadi. Benvenga. Allora, quanti fondi delle universiadi verranno destinati allo Stadio Collana? Che tipo di ristrutturazione viene fatta? Considerando che ci sono delle ristrutturazioni in alcune parti dello Stadio Collana, che ha piscina, campo di pattinaggio, sala di scherma, pista di atletica leggera, sala per la ginnastica artistica e sala per gli sport tipo judo e karate. Che tipo di attività di restaurazione dell'impianto è stata prevista? Qual è il tempo stimato per la conclusione dei lavori e per la riapertura degli impianti? E con quale modalità la Regione e attraverso quali soggetti intende poi gestire l'impianto nell'emore della nuova gara d'appalto? Grazie. Grazie, consigliera Muscarà. La parola al vicepresidente Buonavitacolo. Grazie, presidente. L'interrogante adombrava un dubbio se la Regione avesse idea di cosa fa nel Collana. La Regione ha un'idea ben precisa che il Collana deve essere restituito all'utenza degli sportivi non solo del quartiere che lo ospita, ma dell'intera comunità napoletana. Vorrei ricordare che questo impianto è stato restituito alla Regione in condizioni di particolare degrado e fatiscienza e ci sono state delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria volte a subordinare l'agibilità dell'impianto ad alcuni lavori di messa in sicurezza. Quindi si è reso necessario in primo luogo prevedere questi interventi, che sono interventi e di carattere civile, addirittura si pone un problema di spicconare alcuni intonaci pericolanti, interventi di carattere più impiantistico e di adeguamento funzionale delle strutture. È vero che si era deciso di affidare subito a una società in house i primi interventi messi in sicurezza. L'invio è stato dovuto alla decisione dell'amministrazione regionale di affidare la gestione del collana all'Agenzia regionale per le università per l'inclusione avvenuta di questo impianto nel programma delle attività connesse comunque alle università. E sarebbe stato abbastanza complicato iniziare interventi e poi affidare in corso d'opera l'impianto con interventi in corso all'Agenzia. Quindi per ragioni di razionalità e anche di semplificazione si è previsto innanzitutto di affidare l'impianto all'Agenzia delle università e questo è stato disposto con una delibera di giunta proprio in data ieri. Questo consentirà di fare subito gli impianti di messa in sicurezza che erano già stati previsti e poi fare altri due interventi per complessivi 3 milioni e 500 mila euro di adeguamento funzionale. Questo consentirà all'impianto di essere utilizzabile per attività connesse all'evento delle università. Naturalmente si prevederà di accompagnare i lavori con la parziale restituzione dell'impianto alla sua utenza garantendo ovviamente le condizioni necessarie di sicurezza. Per quanto riguarda gli aspetti gestionali la delibera di giunta affida all'Agenzia questo compito e credo che l'Agenzia lo assolverà con la sensibilità istituzionale che naturalmente deve riguardare un impianto di questa importanza soprattutto avendo anche grande attenzione al coinvolgimento delle associazioni sportive. Quindi credo che nei prossimi giorni si entrerà in una fase operativa sia per quanto riguarda l'inizio dei lavori sia per quanto riguarda i rapporti con il mondo associativo per consentire la rapida restituzione di questo impianto alla sua utenza naturale. Grazie. La parola alla consigliera Muscara per una breve replica. Grazie. Allora diciamo che non è proprio soddisfacente la sua risposta. Nel senso che come quella favola che ricordavamo da piccoli di ro farò vedrò, poi alla fine i ranocchi rimassero digiuni perché la mamma aveva detto troppe volte di ro farò vedrò. La delibera è giunta ieri, ho capito, ma lo stadio è in queste condizioni ormai chiuso da 100 giorni e la situazione di precarietà nella quale lo stadio si trovava la conoscevamo molto bene. Mi fa piacere sapere che è stata attribuita la scifa di 3 milioni di euro anche se non ho capito, non ci ha spiegato, che tipo, quale parte dell'impianto verrà sistemato. Verrà sistemata tutta, verrà riconsegnata alla cittadinanza anche la pista d'atletica? Anche il pattinaggio? Questo non ci è dato saperlo e non abbiamo avuto modo di leggerlo da nessuna parte. per cui credo che dobbiamo porre più attenzione alla città di Napoli, a Napoli capitale, come dico io. La stessa attenzione che utilizzate quando accendete le luci di Salerno con grande facilità dovreste tenerla anche per la città di Napoli, che non è seconda e che vede sempre rigettate quelle che sono delle emergenze grosse. I sportivi napoletani e vomeresi ci stanno ascoltando in questo momento perché io da loro sono stata sollecitata. Io sono cresciuta nello Stadio Collana e vi ho insegnato, quindi ho partecipato anche ai funerali e con grande sofferenza vi dico, ad esempio, che le gare di scherma, che era una medaglia grossa napoletana e campana, gli atleti della scherma, sebbene la sala di scherma sia ancora utilizzabile, devono andarsi ad allenare altrove. Questo è un documento gravissimo per l'attività sportiva napoletana e campana. Vi invito e continuerò con la mia attenzione nei confronti dei vostri lavori. Ci avete detto che il tempo sarà breve? Perfetto. Quanto tempo sarà destinato a questi lavori? Non c'è dato modo capirlo. Faremo tra un poco la quarta interrogazione per capire a che punto stiamo. Grazie consigliere Muscarà. Allora, interrogazione numero 62 barra 2, presentata dal consigliere Gennaro Saiello. Avente ad oggetto mancate erogazioni stipendi idraulici forestali della regione Campania, interviene in sostituzione la Presidente del gruppo Ciarambino. Prego. Grazie. Oggi affrontiamo una questione di assoluto rilievo tenendo conto che parliamo di centinaia di lavoratori che non percepiscono lo stipendio da mesi. In particolare la questione riguarda gli idraulici forestali. In Campania ci sono 3.920 unità di idraulici forestali. Di questi 183 sono operai a tempo indeterminato, i cosiddetti oti, che afferiscono direttamente alla regione Campania. Tutti i lavoratori che operano presso le foreste demaniali e vivai della regione Campania versano in una situazione di grave difficoltà economica con continui ritardi nei pagamenti degli stipendi. Noi veniamo continuamente sollecitati come consiglieri da questi lavoratori, da questi padri di famiglia che sistematicamente si vedono non erogare lo stipendio per interi mesi. Nel caso di specie i 183 operai a tempo indeterminato non percepiscono lo stipendio da febbraio 2017. C'è da dire che con specifico riferimento a questi 183 la loro retribuzione afferisce a un capitolo di spesa dell'ente regionale mentre nel caso appunto degli altri lavoratori forestali attiene ai fondi comunitari FSC. Allora come Movimento 5 Stelle ha prima firma a Gennaro Saiello il 14 di aprile abbiamo depositato proprio un'interrogazione su questo tema chiedendo alla Giunta quali provvedimenti intendessi adottare per sbloccare l'erogazione degli stipendi. Questa interrogazione giace senza risposta da oltre un mese. Il 29 di marzo a seguito di un'audizione appunto che si è tenuta in ottava commissione proprio con questi lavoratori che hanno dettagliatamente illustrato la loro situazione estremamente critica la commissione ottava ha licenziato una risoluzione con cui appunto ha impegnato la Giunta regionale quindi parliamo di marzo sono passati due mesi con cui ha impegnato la Giunta regionale a disporre con urgenza interventi finalizzati a dare risposte alle richieste di questi 183 lavoratori addirittura in quella risoluzione si chiedeva di assumere di provvedere ad assumere gli stessi nei ruoli della regione Campania ora quello che noi chiediamo visto che sono passati due mesi dalla risoluzione un mese dalla nostra interrogazione in evasa un tentativo di ordine del giorno in consiglio è andato a vuoto perché la maggioranza non ha voluto sottoscriverlo noi chiediamo alla Giunta che qui presente quali sono i provvedimenti che vuole adottare visto che è stata sollecitata dal Consiglio già da due mesi per garantire il pagamento dei 183 lavoratori e per garantire anche la puntuale erogazione non possiamo immaginare di fare una questua ogni volta che questi padri di famiglia debbono venire pagati o fare un question time ogni volta e si è previsto un piano di potenziamento per rafforzare questo organico finalizzato al servizio di manutenzione e valorizzazione delle foreste dei Magnali che sono un patrimonio straordinariamente ricco della regione Campania grazie grazie consigliera Cianambino la parola vicepresidente Buonavitacolo grazie presidente la vicenda dei pagamenti è legata a un cambiamento di regime normativo che ha impedito alle unità operative dirigenziali decentrate verso le province di Avellino, Benavendo, Casetta, Napoli e Salerno di continuare a svolgere le funzioni di enti delegati alla spesa esensi dell'articolo 37 della legge regionale numero 7 del 2002. Quel meccanismo consentiva una più rapida procedura di pagamento ma a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali non è stato più possibile garantire questa attività di enti delegati alla spesa e quindi è stato riorganizzato il sistema dei pagamenti. In questo contesto senza indugiare in dettagli tecnici superflui che sono comunque rilevabili dalla documentazione che lascerò in atti posso confermare sulla scorta di quello che ha relazionato la direzione generale che le competenze dei mesi di gennaio e febbraio 2017 sono state già erogate a tutti i 183 lavoratori forestali e regionali operai a tempo indeterminato nella seconda settimana di aprile 2017. Invece per rispondere gli emolumenti relativi ai mesi di marzo e aprile 2017 la direzione sta celermente provvedendo ad allineare i relativi documenti contabili. Le attività posti in essere sinora sono state tra l'altro ambiamente illustrate alle organizzazioni sindacali di categorie in occasione di un apposito incontro del 28 aprile. La corrispondizione delle competenze stipendiali relativi ai mesi di marzo e aprile 2017 avverrà attenendosi ad una stima prudenziale della tempistica occorrente entro la fine del mese di maggio 2017. Le competenti unità operative dirigenziali una volta terminata la messa a punto delle procedure contabili di qui sopra garantiranno l'erogazione con cadenza mensile delle aspettanze maturate dagli operai a tempi determinati come peraltro accadeva prima del nuovo regime normativo regolato con la delibera di giunta regionale numero 70 del 14 febbraio 2017. Per quanto riguarda gli aspetti assunzionali o comunque di completamento delle dotazioni organiche il blocco del turnover per il personale eudraulico forestale regionali in vigore dal 31 dicembre 2010 e perdurante fino al 31 dicembre 2017 ha determinato nel corso di questi ultimi anni un depauperamento della consistenza numerica delle maestranze. In questo contesto si stanno attivando le procedure per acquisire i risconti da parte delle unità operative dirigenziali in ordine alle possibili modalità di copertura del fabbisogno organico scoperto. Comunque si pensa di far fronte alle richieste pervenute di potenziamento degli organici del personale mediante la mobilità dagli enti delegati regionali ex legge regionale numero 11 barra 96 comunità montane province città metropolitana di Napoli verso la regione campania ricorrendo ad idonee procedure selettive che verranno definiti in accordo con la legislazione della regolamentazione nazionale e regionale vigente in materia. Grazie la parola alla consigliera Ciarampino. Ringrazio il vicepresidente per questa risposta ma come sempre la regione arriva in ritardo. Il presidente parla di stima prudenziale e dice che entro fine maggio verranno erogati gli stipendi di tre mesi fa. Fino a febbraio sono stati pagati, siamo in ritardo di tre mesi. Stima prudenziale non credo che sia tanto prudenziale tenendo conto che fine maggio è oggi e questi stipendi non sono stati ancora erogati. Quello che io auspico, lo ripeto, è che non dobbiamo venire a sollecitare con successiva interrogazione e question time l'erogazione di quello che spetta di diritto a dei lavoratori che espletano il loro ruolo. D'altra parte ci risulta anche a seguito dei rilievi nella lettera di dimissioni del presidente del collegio dei revisori che probabilmente la regione ha non poche difficoltà nel presidio del personale afferente agli enti appunto delegati. Quindi probabilmente anche in questo c'è la ragione di questo ritardo e su questo faremo degli approfondimenti perché vogliamo capire come la regione si sta muovendo perché non è più tollerabile una situazione di questo tipo. Grazie. Passiamo all'interrogazione iscritta a registro generale numero 63 barra 2. Vente ad oggetto. Procedure adottate dalle diverse aziende sanitarie e dalle aziende ospedaliere della regione Campania in ordine a bandi di concorsi per la copertura di posti paganti a firma del consigliere Luciano Passariello. Prego consigliere. Grazie Presidente. Presidente, dando per scontato che l'interrogazione della siete letta, io volevo chiedere al presidente delegato, al presidente Bonavitacola. Sono ormai diversi mesi che io denuncio e purtroppo resto inascoltato che nelle diverse aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della regione Campania si assume personale medico e paramedico a tempo determinato tramite il ricorso alle agenzie di lavoro interinari. Senza attingere alle gradatorie già esistenti, bloccando le stesse, senza applicare l'istituto della mobilità e tantomeno con pubblici concorsi. Ritengo che sarebbe opportuno, come più volte ho chiesto, di provvedere alle missioni di bandi prevedendo concorsi pubblici per tutti i profili di cui c'è bisogno e procedendo in questo giusto modo si potrebbe aggiornare le gradatorie dando opportunità ai tanti giovani e non di apportare finalmente il loro contributo al servizio sanitario della Campania, che a mio avviso ha subito fin troppi commissariamenti. È giunto il tempo di rientrare nell'ordinario e da qui il comunicato stampa che io ho fatto ieri insieme al mio collega ai vertici di partito, al Governo nazionale dicendo basta commissariamento, abbiamo provocatoriamente detto chiunque sia anche De Luca, ma che venga finalmente dato l'opportunità a noi di avere un interlocutore. Signor Presidente, allora a noi ci costa che De Luca, il Presidente De Luca, è sensibile a questo tema. Le chiedo e mi chiedo, forse qualcuno ha pensato che operando attraverso le agenzie di lavoro interinale si potevano creare poi condizioni di favore per stabilizzare il personale così reclutato? Perché non ho avuto risposta alle mie richieste di chiarimenti a tal riguardo? Perché ho interpellato i responsabili della regione Campania responsabili delle diverse aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie e questi non hanno risposto. Come lei ben sa, tali operazioni sono il netto contrasto con le normative vigente in materia. L'auspicio è che si chiarisca fino in fondo quando questo stato di cose si procede senza commettere ulteriori illegalità. Ed è per questo che io ho presentato questa interrogazione e spero di avere risposte concrete. Grazie. Grazie, Consigliere Passarello. La parola al Vicepresidente Buonavita. Io condivido larga parte delle considerazioni svolte dall'interrogante. Osservo che il problema del ricorso al lavoro interinale non ha una datazione molto recente, ma è un problema abbastanza risalente negli anni pregressi ed è uno dei punti di particolare attenzione per ripristinare condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nelle azioni delle aziende sanitarie locali anche in questo campo. Sopreffo evidenziare che alla Regione e alla direzione competente sono attribuite funzioni di monitoraggio, di verifica e controllo, ma le aziende sanitarie locali, come è ben noto, hanno organi amministrativi che hanno piena ed autonoma responsabilità nelle decisioni che assumono nelle deliberazioni che vengono attuate. In questo senso però la Direzione Sanità della Regione Campania ha promosso un tavolo tecnico proprio per contrastare questo fenomeno del ricorso al uso del lavoro attraverso agenzie interinali e per ribadire quali sono i principi generali in materia assunzionale. In questo senso è stata emanata una circolare, la 26.57.39 del 10 aprile 2017, con cui sono stati specificati i principi generali che devono presiedere al reclutamento del personale a ricorso all'Istituto della Mobilità. Queste procedure sono regolate dall'articolo 30 del decreto legislativo sul pubblico in piego, il numero 165 del 2001. In questo circolare si richiama il percorso che correttamente deve essere eseguito per esaurire le procedure di mobilità per i posti vaganti, coprendoli con i dipendenti in posizione di comando di fuori ruolo provenienti da altre amministrazioni. Solo al termine delle procedure di mobilità l'azienda potrà procedere o utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti o bandendo un nuovo concorso. In tale ultimo caso l'azienda dovrà giustificare il mancato ricorso alle graduatorie vigenti in altre amministrazioni diverse da quella che vuole ricoprire i posti in organico. La Direzione Generale, trasmettendo questa circolare, è a richiesta dalle aziende ospedaliere e sanitarie rispetto delle procedure descritte. Al contempo è stato chiesto di verificare la risponsenza degli atti fino a quel momento adottati con le prescrizioni indicate nella circolare. La questione relativa al ricorso alle società che somministrano i lavori interinale ha formato oggetto precisamente di una circolare ad hoc la 2435 del 13 gennaio 2017. La Direzione Generale ha richiesto alle aziende di monitorare il ricorso al lavoro somministrato e la consistenza del fenomeno al fine di perseguire una graduale estinzione di tali contratti di lavoro. Conclusivamente va ricordato quindi rispetto alla Regione una funzione di monitoraggio e di vigilanza che sta esercitando correttamente precisando che le aziende sanitarie hanno comunque una sfera di autonoma responsabilità e quindi in questo senso la Regione può intervenire soltanto dove vengono accertate palesi illegittimità delle procedure. In questo senso comunque è stato istituito un apposito tavolo tecnico proprio per consentire che questa attività di monitoraggio e vigilanza possa essere la più efficace e incisiva possibile. Grazie Vicepresidente, la parola al Consigliere Passariello per una breve replica. Sì rapidamente Presidente, la ringrazio per quanto mi ha appena esposto, diciamo che parzialmente soddisfatto di quanto la Giunta sta mettendo in atto. È chiaro che io sottolineo che la nostra preoccupazione è ancora forte ed è forte perché nelle settimane passate qualche azienda ospedaliera ha messo fuori un bando e in questo bando si prevedeva che alcune figure avevano dei requisiti in più e guarda caso erano coloro i quali da X mesi erano in servizio o in quell'ospedale. E guarda caso erano tutti coloro i quali poi avevano avuto contratto di lavoro interinale. In quel caso, come ho detto prima, il Presidente De Luca è intervenuto, però la nostra preoccupazione è che questi requisiti a favore di queste persone non vengono ancora utilizzati. Quindi resta da alta la guardia e faremo in modo, come abbiamo sempre fatto, di fare la nostra opposizione costruttiva a fianco dell'agente. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Passariello. Interrogazione iscritta al Registro Generale numero 64, la vente ad oggetto, emergenza ambientale in Campania, completamento del collettore sub 1 del collettore Gragnano Castellammare di Stabbia e della rete fognaria di Gragnano a firma del Consigliere Alfonso Longobardi. Prego Consigliere. Grazie Presidente Casillo. Grazie Presidente Bonavitacola. L'emergenza in Campania permane da tempo in una situazione di significativo disagio ambientale, soprattutto relativamente ad alcune aree. Difatti la mancata ultimazione degli impianti di depurazione dei collettori e delle reti fognare comunali determina gravi rischi per la salute pubblica. Ad oggi in alcune aree territoriali di quamele cosiddette acque nere non vengono immesse in uno scarico regolare e l'inquinamento in tal caso si determina è molto significativo. La problematica riguarda ad oggi in particolare il mancato completamento del collettore Gragnano Castellammare e del collettore sub 1 che servirà ai comuni di Pompei, Scafati, Angri, Sant'Antonio Abbate e della rete fognaria comunale di Gragnano. Queste infrastrutture sono indispensabili per assicurare alle popolazioni il pieno completamento e funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria. Di fatti tre sono gli interventi che fanno parte dell'interrogazione. L'ultima azione ripeto del collettore di Gragnano Castellammare opera in capo alla regione Campania è progettata per gestire una portata di liquami di circa 12 metri cubi al secondo e manca un ultimo tratto di appena 800 metri. I lavori del collettore sub 1 in opera all'Arcadis sono ripartiti sì solo di recente ma ancora non vanno pienamente al regime. In ultimo il completamento della rete fognaria di Gragnano opera in capo all'Arcadis che ad oggi non è ancora avviata. Si chiede pertanto di verificare i tempi, le modalità certe di completamente le suddette opere infrastrutturali indispensabili al territorio e alla salute ambientale così da rendere noto ai cittadini entro quale termine le stesse saranno ultimate e potranno entrare pienamente in servizio. Grazie. Grazie. La parola al Vicepresidente Bonavitacola. Grazie Presidente. L'interrogante solleva una questione che incontra una nostra particolare sensibilità e attenzione perché ormai si tratta di un'opera in via di completamento e riguarda una zona del territorio regionale di grande sensibilità ambientale. Credo di poter dire sulla scorsa di quelle che sono le risultanze dell'attività istruttoria e delle relazioni degli uffici che si è sostanzialmente in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il completamento del collettore Gragnano-Castellammare di Stabbia e della rete fognaria di Gragnano. Le lavorazioni ancora da seguire interessano un tratto per un sviluppo di metri lineari 863 e i lavori da eseguire al netto del ribasso contrattuale sono valutati in circa un milione e mezzo di euro. La Regione è in atto alle procedure per il trasferimento e il completamento dell'infrastruttura all'ente di ambito sarnese-vesuviano che procederà all'appalto dei lavori. I tempi per il completamento dell'infrastruttura sono stimati in circa 15 mesi a partire dall'inizio dei lavori. Non è escluso ma questo si definirà di intesa con l'ente d'ambito che l'intervento possa essere affidato al soggetto gestore del servizio idrico integrato in quel territorio e questo naturalmente consentirebbe di velocizzare se non l'esecuzione dei lavori almeno la parte riguardante le procedure di affidamento. Questo consentirebbe effettivamente di poter rispettare i tempi che io ho indicato forse anche addirittura di anticiparli un po'. Grazie Vicepresidente. La parola al Consigliere Longobardo. Grazie Presidente. Resto soddisfatto, particolarmente soddisfatto dall'intervento del Presidente Bonavitacola. Sono temi che non sono stati affrontati soltanto nella seduta odierna ma lo posso dire tranquillamente, quotidianamente ne parliamo e cerchiamo di affrontare questa emergente ed essere concreti e pratici nella risoluzione. Soprattutto ci tengo a sottolineare una cosa, ma è come in questo caso devo ringraziare i comitati cittadini, i comitati che hanno sollecitato quotidianamente questi interventi così come gli antiparco che sono dislocati sul territorio che non solo sollecitano questi interventi ma danno grande sostegno. Quindi prendo atto di quanto detto relativamente al collettore Gragnano-Cassella Mare con il trasferimento a lente idrico e soprattutto si prende atto del fatto che con la ripartenza del sub 1 credo che anche in quel caso potremmo dare delle risposte certe e concrete a territori che per troppo anni erano stati abbandonati. Quindi grazie Presidente Bonavitacola e credo che sia la direzione giusta. Grazie. Grazie Consigliere. Interrogazione Registro Generale numero 65 avendo ad oggetto possibili interventi rigui nelle aree agricole dei comuni ricompresi nel patto terra dei fuchi. A firma del Consigliere Giampiero Zinzi. Prego Consigliere. Sì, intanto una precisazione rispetto alla interrogazione precedentemente ritirata. Viene ritirata perché avendo noi chiesto all'assessore Fortini le dimissioni rispetto al lavoro non svolto in questo periodo di tempo preferiamo la si discuta in aula in luogo del Consiglio regionale. Abbiamo doverosamente comunicato che lei l'aveva ritirata ma non c'era nella motivazione però se non l'ha letta sono io a precisarle. La ringrazio. L'oggetto di questa interrogazione invece è un altro. Gli effetti in terra dei fuochi di comportamenti criminali sono ormai noti a tutti. Spesso e costantemente gli agricoltori ormai vessati e soprattutto allo stremo chiedono un intervento delle istituzioni. Ebbene questa mattina siamo qui a parlare di un'iniziativa presa dal consorzio di bonifica del basso volturno, del bacino inferiore del volturno che proprio per venire incontro a questa emergenza dopo aver partecipato ad un bando dedicato ai consorsi di bonifica del meridione d'Italia ne esce vincitore e riesce a conquistare la possibilità di utilizzare 24 milioni di euro per un progetto infrastrutturale irriguo che consenta alla sinistra dei reggilani di captare e di utilizzare le acque chiaramente non inquinate per far fronte a questa emergenza. Di fronte a tutto questo c'è l'inerzia dell'UOD ambiente che è tenuto a dare una risposta in termini di assoggettabilità via e allora chiedo all'assessore competente i motivi di questi ritardi e soprattutto se c'è, insomma è stato un intervento per accelerare e ridurre i ritardi e far fronte a questa opportunità che non può essere persa. Grazie. Grazie, la parola Vicepresidente Fulvio Bonavitato. Un intervento assolutamente meritorio, il consorzio è risultato selezionato nell'ambito di una procedura comparativa rivolta all'intero bacino meridionale per cui sarebbe particolarmente deprecabile perdere questa importante occasione per un intervento che anche in termini ambientali è estremamente corretto perché prevede di sostituire i prelivi di acqua di falda che sappiamo ha delle criticità connesse al contesto ambientale in cui si trova con una derivazione di uso di risorse idrica del piume Volturno che è compatibile con l'equilibrio del corso d'acqua e che garantirebbe un approvigionamento importante per le attività agricole della zona, quindi un intervento di assoluta eccellenza. Si registrano degli obiettivi ritardi nelle procedure, così come veniva ricordato da parte dell'interrogante, i passaggi che vengono indicati dalla direzione competente in termini temporali sono questi. Il 2 dicembre parliamo della procedura di associabilità a valutazione di impatto ambientale. Il 2 dicembre è pervenuta l'istanza del consorzio, il 12 dicembre la competente direzione ha formulato una richiesta di integrazioni per la completezza della documentazione amministrativa, il 21 gennaio del 2017 la pratica è divenuta procedibile a seguito delle integrazioni fornite dal consorzio. Tuttavia, a seguito della produzione delle integrazioni, in sede istruttoria da parte dell'ufficio è stata formulata al consorzio una richiesta di chiarimenti relativa al monitoraggio dello stato e della qualità dell'acqua. Appena il consorzio è fornirato alle chiarimenti si potrà esprimere in termini brevissimi richiesto parere relativo alla verifica di associabilità a via. È certamente un iter non da premio Oscar della semplificazione amministrativa. L'opportunità che ci viene fornita dall'interrogazione è anche un motivo per vigilare presso gli uffici competenti perché i tempi vengano rapidamente accorciati, onde evitare il rischio di perdere un finanziamento per un'opera così importante. Grazie Vicepresidente, la parola al Consigliere Zinzi. Sì Presidente, bene la sua risposta ma non benissimo, nel senso che due mesi e mezzo sono un ritardo notevole e ci saremo aspettati in questo caso evidentemente un approccio un po' più decisionista dal momento che questa giunta ci ha abituato ad un approccio decisamente convinto. Bene ma non benissimo perché oggi mi sarei aspettato che lei mi dicesse di aver individuato un RUP a cui affidare il coordinamento del progetto perché poi ci sarà da andare a Roma al Ministero a recuperare le risorse che sono state assegnate a questo territorio. Bene Presidente, la sua risposta, chiaramente non benissimo gli effetti sulla terra dei fuochi e sulla campagna tutta. Grazie. Grazie Consigliere Zinzi. Interrogazione numero 66 a firma del Consigliere Armando Cesaro. Assegnazioni sedi farmaceutiche. Prego Consigliere. Grazie Presidente. Premesso che in data 2-3-2017 l'Unità Operativa Politica del Farmaco della Regione Campania ha approvato il decreto dirigenziale numero 91 con il quale veniva confermata la graduatoria dei candidati idonei nel pubblico concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche così come aggiornata con precedente analogo decreto dirigenziale numero 77 del 31-1-2017. Che tale graduatoria è stata approvata in costanza di numerosi ricorsi presentati al TAR Campania che la citata unità dirigenziale all'atto dell'approvazione del decreto 91 era a conoscenza del fatto che alcuni dei ricorrenti si erano visti riconoscere nel merito le ragioni del ricorso e quindi l'ingiusto e grave danno economico subito a fronte di significativi investimenti. Che tali sentenze di merito del TAR Campania comportano di fatto e di diritto la totale e complessiva modifica delle graduatorie approvate ai sensi del decreto 77 con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di responsabilità amministrativa. Considerato che nel decreto 91 la citata unità operativa ha inserito una clausola secondo la quale i provvedimenti regionali di assegnazione delle sedi potranno essere determinati o rielaborati ove accolti in tutto e in parte i sopraddetti ricorsi. Che tale clausola che peraltro non mette in alcun modo l'ente regionale al riparo da eventuali responsabilità erariali né tantomeno la tutela e i significativi investimenti posti in essere dagli assegnatari dei decreti appare palesemente legittima in quanto non disciplina dal bando. Tanto premesso interrogo il Presidente della Regione Campania nella qualità di assessore per sapere quali iniziative e misure si intendono adottare per garantire i diritti dei candidati idoni e tutelare i significativi investimenti messi a rischio dal mancato corretto conferimento delle sede farmaceutiche. Grazie consigliere. La parola al Vicepresidente Buonavitacola. Grazie Presidente. La struttura amministrativa regionale competente evidenzia che le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi destinate a farmacie si sono concluse nel 2014. Le gradatori che hanno definito le procedure di assegnazione hanno fin da subito suscitato notevole contenzioso, sostenuto a livello locale da comitati civici e a volte anche enti locali e altri organi. La Direzione Generale, pur sussistendo tale copioso contenzioso, ha comunque proceduto alle prime assegnazioni ricorrendo a clausa di salvaguardia qualora i giudizi intendati si dovessero concludere con una condanna della Regione. Nei provvedimenti di assegnazione delle nuove sedi viene infatti previsto che in seguito ai giudizi pendenti potrà procedersi ad una ridefinizione dei provvedimenti di assegnazione. Attualmente le sedi farmaceutiche assegnate sono 50 agli esiti delle procedure amministrative conclusesi nel mese di marzo 2017. Questo lo sta dell'arte. Mi pare strano comprendere la razza della doglianza dell'interrogante, nel senso che se siamo d'accordo ad andare avanti nonostante il contenzioso e quindi non a bloccare le assegnazioni in pendenza di un contenzioso o che questo contenzioso non abbia sospeso gli atti, mi pare del tutto fisiologico che si inserisca una clausola che fa salva la doverosa autotutela dell'amministrazione laddove il contenzioso si dovesse concludere in senso sfavorevole alla Regione. È una clausola che non incide sulla legittimità e l'efficacia delle assegnazioni ma è semplicemente una informazione preventiva, io credo in termini di trasparenza e di correttezza, sarebbe stato deleterio invece se la Regione avesse deciso di congelare le procedure in attesa degli esiti dei contenziosi. Questo avrebbe determinato evidentemente un danno ingiusto in favore dei legittimi collocati in gradatoria, legittimi finché quella gradatoria non viene modificata o annullata dal giudice amministrativo. Quindi non credo che quella insedimento possa redere in modo particolare gli interessi dei correttamenti aggiudicatari. Grazie Vicepresidente, la parola al Consigliere Cesaro. Certo però Presidente, il dubbio mio e non penso solo mio ma anche sicuramente dei farmacisti è che l'amministrazione comunque era cosciente che a quella autorizzazione seguivano comunque degli investimenti e adesso questi investimenti chi li pagherà? Nel momento in cui un farmacista comunque ha iniziato una serie di investimenti sul territorio diventa difficoltoso perché oggettivamente questi investimenti non si sa che fine faranno. Forse era meglio non partire e aspettare i ricorsi dato che si sapeva che a breve avremmo avuto la risposta. Grazie. Grazie Consigliere Cesaro. Interrogazione numero 67 a firma del Consigliere Borrelli. Assunzione presso Asla di Caserta. Prego Consigliere. Grazie. Presidente, l'interrogazione è legata a una vicenda che se fosse confermata avrebbe dell'incredibile oltre che una vicenda giuridicamente estremamente grave. Qualche settimana fa è apparso sul Corriere di Caserta, un quotidiano del territorio casertano che alla Asla di Caserta è risultata vincitrice al concorso per collaboratore amministrativo la figlia del direttore del servizio in bilancio della medesima Asla, lo stesso che aveva bandito il concorso. Cioè la figlia ha partecipato al concorso bandito dal papà. Ebbene, il direttore si è trasferito però presso un'altra Asla prima della conclusione del detto concorso vinto dalla figlia. L'articolo non solo riporta questo, ma riporta addirittura che ben altri quattro congiunti di un sindacalista avrebbero sottoscritto dei contratti di consulenza con l'azienda. L'attenzione mia è che mi sarei aspettato una smentita formale di una vicenda del genere che è illegale, perché noto che un figlio o un parente di primo o anche secondo grado non può partecipare a banditi dallo stesso genitore. Non solo non è stata smentita questa notizia, ma trovo alquanto incredibile che guarda caso nella tempistica il padre se ne va e poco dopo si riunisce la commissione che assume la figlia. Grazie, la parola al Vicepresidente Bonavitato. è noto, lo abbiamo già ricordato poc'anzi in un'altra occasione, che è nella responsabilità delle aziende sanitarie locali l'attivazione delle procedure riguardanti atti di propria competenza. In ordine alla vicenda evidenziata dall'interrogante, la Direzione Generale dell'ASL competente ha comunicato che le assunzioni, di cui alla vicenda evidenziata anche dalle cronache di stampa, sono avvenute in seguito all'espletamento di avusi pubblici, ai sensi dell'articolo 15 ODS del Decreto Citativo 229,99, che sono stati banditi questi avvisi in tempi antecedenti alla nomina del Direttore Generale dell'ASL Caserta attualmente in carica. Trattandosi di procedure selettive ad evidenza pubblica e non essendo la Direzione Generale dell'ASL a conoscenza di eventuali irregolarità inerenti alle prove concursuali né di possibili ricorsi, comunque il Direttore Generale dell'ASL, ad ulteriore garanzia di trasparenza, ha comunicato che promuoverà un'apposita indagine ispettiva interna per verificare se vi siano state eventuali distorsioni nell'uso delle procedure richiamate. All'esito delle risultanze di questa indagine ispettiva si riservano i competenti provvedimenti, evidentemente anche sotto osservazione e vigilanza della Direzione Compatente dell'Aggiunta Regionale. Grazie, la parola al Consigliere Borrelli per una replica. Grazie Presidente per la risposta, ovviamente mi reputo soddisfatto. È chiaro che il nuovo Direttore non poteva essere colui che ha bandito il concorso perché quello si è trasferito ad altra ASL poco prima che la figlia venisse assunta. Io ho chiesto per trasparenza di avere le carte del concorso, non le ho ancora avute, però ho una domanda che ho fatto a uno dei responsabili dell'ASL su come sia stato possibile perché il concorso, a parte che ci sono dei ricorsi in campo ovviamente di quelli che non sono risultati idoni per la vicenda che doveva essere immediatamente escluso il primo e probabilmente pure il secondo perché anche il secondo sembrerebbe sia un parente del ex direttore, del ex dirigente, ma c'è una cosa e concludo ancora più strana. Bisognava partecipare al concorso ovviamente sulla busta di partecipazione, c'erano i cognomi dei vari partecipanti. Ebbene, da quello che mi hanno detto, la partecipante figlia non ha utilizzato il nome e il cognome suo, ma il nome e cognome della mamma per partecipare al concorso. Il che denota, ed è il motivo per cui io sottolineo con grande attenzione, che se queste cose vengono confermate c'è un'attitudine molto scorretta e probabilmente anche criminale da parte di soggetti che operano nell'amministrazione, che vanno evidenziati e se possibile, secondo tutte le norme di legge che sono previste, anche licenziati dalle nostre aziende. Grazie. Grazie. Interrogazione numero 68. Avente ad oggetto, riapertura stadio Collana, a firma del consigliere Borrelli. Prego. Io ho sentito poc'anzi che ovviamente il Presidente ha già dato delle risposte alla collega dei Cinque Stelle che era intervenuta prima di me su un tema simile. Io voglio soltanto, ho letto ovviamente i giornali, ho saputo ieri della scelta della Giunta, che condivido e apprezzo, perché è un modo di operare correttissimo quello di spingere affinché un problema atavico e soprattutto la chiusura dello stadio Collana sia affidata a un soggetto che sia in grado di intervenire e di garantire tempi certi e graduali della riapertura e non solo questo ma anche i lavori che servono e che non sono mai stati fatti fino ad oggi. Praticamente la Regione Campania, l'attuale amministrazione della Regione Campania ha preso una struttura sportiva che non ha interventi straordinari da illo tempore. L'unica cosa che chiedo al Presidente è di avere un'ulteriore delucidazione ovviamente sui tempi e sui modi di intervento, oltre ovviamente a quelli che ha già detto poc'anzi all'altra collega. Grazie, prego Presidente. Grazie, sì, per non ripetere le cose dette prima, vorrei rimarcare a scanso di qualsiasi equivoco che non è che la Regione ha preso le chiavi del Collana e se l'è dimenticata nel cassetto. Collana è stato restituito in condizioni di assoluta fatiscienza e in condizioni di gravi carenze nei rispetto alle normative di sicurezza, sia sugli impianti elettrici, sia sugli impianti termoidraulici, sia sulle condizioni delle opere civili al contorno dell'impianto. Ora, l'Agenzia delle Università di che cosa dovrà fare? Dovrà fare subito, e lo farà nei prossimi giorni, alcuni interventi di messa in sicurezza che riguardano le opere civili esterne all'impianto. Contemporaneamente procederà ad interventi per settori omogenei, cioè non si pensa di trasformare il Collana in un quantiere unico, ma si pensa di frazionare le palestre, la piscina, la pista in unità funzionali autonome per procedere, e lì si può utilizzare anche un ambiente, una palestra che non è storicamente inutilizzata, come primo intervento per creare un meccanismo a catena. Ora, quindi come una sorta di volano, no? Primo intervento e poi così via, anche con delle forme di mobilità. È chiaro che garantire la coesistenza tra l'esecuzione dei lavori e l'utilizzazione dell'impianto non è una cosa semplice, ma è una cosa possibile. Ed è questa una delle indicazioni che saranno date all'Agenzia che è impegnata in questi interventi, che sono interventi di messa in sicurezza, ma anche sono qualcosa di più. Sono interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale di un impianto che non è interessato da lavori da decenni. Questo consentirà di discutere con le associazioni. Io proprio stamane ho sentito il Presidente dell'Agenzia regionale dell'Università del Professore Pasquino, col quale ho convenuto l'opportunità di un incontro con le associazioni sportive per i prossimi giorni, per far comprendere ragionevolmente alle associazioni che sono anch'esse primariamente interessate all'esecuzione dei lavori e che i lavori non sono una calamità, ma sono la condizione per restituire questo impianto alla frizione collettiva in condizioni di sicurezza. In quella sede discuteremo anche delle modalità di rendere possibile l'esecuzione degli interventi per step funzionali e l'utilizzazione della struttura. Naturalmente discuteremo anche del modello gestionale. Tema che vogliamo affrontare con grande trasparenza, in grande spito di apertura e di discussione e di dialogo anche con altre istituzioni, penso al Comune di Napoli, penso al CONI e allo stesso mondo delle associazioni sportive perché è un impianto troppo importante e che è particolarmente all'attenzione dell'amministrazione regionale per non meritare questo livello di condivisa responsabilità collettiva. Grazie, la parola al Consigliere Borrelli per una breve replica. Mi reputo pienamente soddisfatto nei tempi, nel modello di azione, nell'approccio e anche nell'apertura rispetto ad altri enti per il futuro modello di gestione e anche per essere riusciti, penso dopo, come ha detto il Presidente, dopo decenni a trasformare una vicenda complessa e complicata e cioè la chiusura dello stadio per responsabilità non derivanti di azioni amministrative o politiche di questa amministrazione in una possibilità di restituire per lungo tempo alla piena fruibilità dei quartieri Vomero e Arenella una struttura fondamentale. Quindi mi reputo pienamente soddisfatto. Grazie, la seduta termina qui. Prossima seduta Question Time giovedì 8 giugno. Grazie.